Prosegue senza sosta l'aggressione ai patrimoni illeciti da parte degli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria che a seguito dell'emissione da parte del Tribunale Regino di un apposito decreto ha sequestrato beni riconducibili all'imprenditore catanese ed ex parlamentare della Repubblica Medeo Matacena. Matacena nel 2014 risulta essere stato condannato definitivamente a tre anni di reclusione della Suprema Corte di Cassazione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. In seguito alle risultanze investigative messe nella cosiddetta operazione Nautilus, confluite poi nel procedimento penale cosiddetto Olimpia 2 e 3. Secondo la sezione misure di prevenzione del Tribunale Regino, riassumendo le emergenze del predetto provvedimento penale snodatosi in un lunghissimo arco temporale, è stato riconosciuto che l'ex parlamentare era l'uomo politico prescelto dalle cosche Regine al fine di salvaguardare gli interessi da queste perseguite. Dal vasto compendio provatorio è emerso che Matacena, pur di riuscire nel suo intento di essere eletto alla Camera dei Deputati nell'elezione del 1994, abbia stipulato una sorta di patto con il diavolo con le rappresentative organizzazioni indranghetistiche della città. Convergono in tal senso anche le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, tra cui Roda Antonio, Lombardo Giuseppe, mentre un altro, Umberto Munao, ha evidenziato la consapevolezza che Matacena ha favorito la cosca Rosmini nella cosiddetta vicenda dei lavori di rifacimento della via marina sempre a Reggio Calabria. Nell'anno 2015, nell'ambito di un altro procedimento penale, la Corte di Appello di Reggio gli ha inflitto un ulteriore condanna a quattro anni di reclusione per il reato di corruzione in atti giudiziari, confermato la sentenza di condanna emessa al Tribunale di Reggio Calabria nel 2012. Da ultimo, Matacena è rimasto coinvolto nelle recenti indagini svolte dalla Dia di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale incardinato presso la Direzione Distrettuale Antimafia Regina, denominata Operazione Breakfast. Nell'ambito di quest'ultima attività investigativa, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso nel 2014 un'ordinanza di custodia cautelare in carcio nei confronti di Matacena, della moglie Chiara Rizzo e di altri per il delitto di intestazione fittizia di beni. In tale contesto, tuttavia, Matacena non è stato tratto in arresto in quanto si trovava a Dubai, dove, sottoposta a fermo da parte dell'autorità degli Emirati Arabi Uniti, è stato successivamente rilasciato dalla medesima autorità. Con l'odierno provvedimento di sequestro, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato ed evidenziato la pericolosità sociale qualificata di Matacena. Appare, dice, dunque sussistere quella condizione di pericolosità che investe l'intero percorso di vita del proposto, che in presenza di altri requisiti di legge, legittima la prensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità di presumibile illecita provenienza, nelle quali non risulta alcun modo giustificato il legittimo possesso. Dal provvedimento emerge che il valore complessivo dei beni sottoposto a sequestro è stato stimato in circa un milione di euro.